Il consigliere regionale Antonio Blasioli torna sulla questione delle terme di Caramanico, chiuse ormai da anni a causa del fallimento dell'ex concessionaria con forti ripercussioni sul turismo e sull'economia del territorio. Dopo la prima asta andata deserta, anche per la seconda non sono pervenute offerte. È la conferma, ha detto Blasioli, che la strada intrapresa dalla giunta Marsilio non è idonea a rendere appetibile gli immobili per l'acquisizione da parte dei privati. L'esito negativo rilancia inoltre la proposta dell'opposizione, la possibilità che la regione Abruzzo partecipi alla prossima gara, aggiudicandosi il lotto numero uno, quello dello stabilimento termale. Due fatti ci portano oggi in questa conferenza stampa. Il primo è che la seconda asta per i due lotti delle terme di Caramanico, che sono sottoposti a un fallimento, è andata deserta. E il secondo fatto è che, a dispetto di quello che il Presidente Marsilio ha promesso a gennaio 2023 andando a Caramanico, e cioè che ci sarebbe stato velocemente il bando per la concessione dell'acqua che è in capo alla regione, in realtà di questo non si vede ombra. Quindi due fatti che veramente ci costringono a tornare nuovamente su questo tema, chiedere anche la mobilitazione della cittadinanza, ma anche dei paesi limitrofi, per fare in modo che le terme tornino a splendere come un tempo, perché sono un volano di turismo, di ricchezza per il territorio, anche per il settore della ristorazione e per il settore alberghiero. E ancora una volta rilanciamo la nostra proposta, cioè la regione Abruzzo adesso, visto che ci sarà un terzo incanto con una riduzione del lotto, partecipi, si aggiuri il lotto in modo che un unico soggetto, cioè la regione Abruzzo, abbia nelle sue possibilità sia la gestione dell'acqua sia quella del cespite immobiliare. Ci troviamo di fronte a un dato di fatto che è il fallimento della stagione termale 2023 e sicuramente ci sono seri problemi per inaugurare quella 2024. Quindi a questo punto noi come opposizione non possiamo far altro che a livello istituzionale continuare a sostenere le iniziative e le proposte che abbiamo già fatto, ad esempio nello scorso Consiglio Comunale, dove l'amministrazione comunale ha bocciato la nostra proposta di acquisizione degli immobili da parte della regione Abruzzo. Su un altro piano, ovviamente, per mantenere accesa un faro su questa vertenza non possiamo fare altro che mobilitare non solo i cittadini, i lavoratori, ma soprattutto le associazioni di categoria, i sindacati che hanno sposato questa proposta e che sicuramente, da quello che sentiamo, a che avvertiamo, si uniranno a questa mobilitazione per tenere uno sguardo della regione su Caramanico Termo.